Impedire la protesta perché dall'altro lato bisogna non occuparsi delle esigenze di questo territorio credo che sia un fatto antidemocratico. Le azioni del Ministero dell'Interno tendono a svilirle, a trasformarla in un gioco di sudditanza rispetto alle richieste del governo russo. Noi siamo qui a protestare contro un provvedimento emesso da un prefetto su ordine del Ministro dell'Interno che a sua volta subisce un ordine di un ambasciatore di un altro paese sovrano, la Russia. Io credo che sia grave che venga impedito a persone che rischiano di perdere il posto di lavoro di poter manifestare, di poter esprimere il proprio disagio. E soprattutto è grave che questo avvenga quando a richiederlo è un altro paese. Abbiamo sentito Salvini dire sempre prima gli italiani. Dopodiché gli italiani che soffrono e che perdono il lavoro non possono protestare perché i russi ci chiedono che non si protesti. Io credo che questo sia assolutamente scandaloso. Ancora di più lo è scandaloso quando questa settimana abbiamo proprio trattato in Senato insieme al Premier Conte, visto che Salvini è scappato e non ha dato nessuna spiegazione al Parlamento italiano dei suoi rapporti con la Russia, dei suoi rapporti ipotetici e finanziamenti ipotetici che avrebbe avuto la Lega per condizionare la politica italiana in direzione pro-Russia e contro l'Europa. Di tutte queste cose qua Salvini non ha parlato. È scappato e non si è presentato. Dopodiché invece è rapidissimo nel rispondere a un ordine dei russi quando si tratta di non far scioperare le persone che perdono il lavoro. La speranza è che questo territorio, ma non basta la speranza, serve l'impegno del governo, serve l'impegno del pubblico, possa riscoprire la propria vocazione, che è una vocazione turistica, ambientale e paesaggistica e che possa trovare il modo per farla convivere con una tradizione industriale che comunque qui è una tradizione importante per quanto le azioni del Ministero dell'Interno tendono a svilirle, a trasformarla in un gioco di sudditanza rispetto alle richieste del governo russo. Io credo sia grave, soprattutto in una zona industriale dove il lavoro è messo fortemente in discussione, dove ci sono dei ridimensionamenti forti perché tra l'altro il governo italiano non si occupa di creare sviluppo in questi territori, dove non si fanno le bonifiche e l'inquinamento è arrivato a livelli di guardia, quindi il tema è dell'impedimento dello sciopero e della manifestazione in una terra a forte disagio sociale. Questo è ancora più grave, tra l'altro la cosa vergognosa è che Lega e 5 Stelle si fanno forti e vanno raccontando in giro noi siamo dalla parte del popolo, quelli del PD sono dalla parte degli imprenditori, sono dalla parte delle banche, ci hanno raccontato questa favoletta. Per mesi, dopodiché ordina un'impresa e loro eseguono e il Movimento 5 Stelle sta zitto. In Parlamento votano il decreto sicurezza bis anche lì in cui viene limitata la possibilità di manifestare da parte dei lavoratori. Io credo che oggi sia per noi necessario essere qui a protestare. Abbiamo presentato interrogazioni in Parlamento in modo che anche istituzionalmente ci vengano date spiegazioni e naturalmente se non dovesse cambiare nulla la prossima volta non saremo qui a fare una semplice conferenza stampa ma saremo qui con fischietti e campanacci a manifestare contro questa ordinanza e contro questo governo che impedisce ai lavoratori di manifestare. L'augurio è che il prefetto revochi immediatamente l'ordinanza e che venga consentito e che il governo si occupi del disagio sociale delle persone che perdono il lavoro. Quindi non si deve occupare di impedire di esprimere un disagio ma si deve occupare di eliminare il disagio e quindi creare lavoro per quei cittadini. Impedire la protesta perché dall'altro lato bisogna non occuparsi delle esigenze di questo territorio credo che sia un fatto antidemocratico. Grazie a tutti.